Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar di Hootsuite. Oggi parliamo di Twitter per il business, quindi parliamo di come usare Twitter per la nostra azienda, come usarlo al meglio, quindi come scoprire tutti i trucchi per gestire Twitter e in particolare come possiamo gestire Twitter grazie a Hootsuite. Vi do il benvenuto, siete tantissimi, questa mattina mi fa molto piacere. Significa che o Twitter è un argomento molto interessante o è un argomento molto complesso. Quindi oggi cercheremo di renderlo un po' più chiaro. Per chi non mi conosce, il mio nome è Chiara Grassilli, sono social media coach di Hootsuite. Se volete interagire con me, sono felicissima di chiacchierare con voi su Twitter. Il mio nome su Twitter è Hootschiara, ovviamente combinazione di Hootsuite e il mio nome. Potete anche seguire il nostro account ufficiale di Hootsuite Italia, che è Hootsuite.it. Come sempre durante il webinar, se è la prima volta che partecipate in uno di questi webinar organizzati da Hootsuite, vi dico che potete usare due canali di comunicazione. Uno è la chat di GoToWebinar, che è appunto questa finestrina che vedete sulla destra del vostro schermo. Altrimenti, visto che oggi ancora di più è l'occasione ideale, possiamo usare Twitter. Possiamo usare Twitter andando a utilizzare l'hashtag Hootsuite Pro. Quindi potete inviare un tweet dal vostro cellulare, dalla vostra dashboard di Hootsuite, se ce l'avete aperta, e semplicemente mettete la vostra domanda insieme all'hashtag Hootsuite Pro. Andiamo a vedere un po' di cosa parliamo oggi. Il webinar di oggi è interessantissimo perché Twitter è uno dei miei social preferiti e sicuramente ci sono tantissime, tantissime cose da dire. Andiamo a vedere un po' le basi come primo punto. Iniziamo a lavorare con Twitter, quindi andiamo a vedere i primi passi per iniziare a lavorare con Twitter. Scopriamo un po' di più da un punto di vista strategico perché la nostra impresa dovrebbe essere su Twitter, cosa che è forse l'elemento che ci blocca di più nel partire con Twitter perché veramente a volte non si vede il motivo per utilizzare Twitter. Soprattutto in Italia dove ancora c'è un po' di diffidenza o comunque c'è diciamo una sorta di familiarità con Facebook che ci porta a concentrarci su questo social media, quindi su Facebook. E a volte ecco ci si dimentica che non esiste solo Facebook, esistono tanti altri social media, tantissime piattaforme di cui Twitter sicuramente è una delle più interessanti. Vediamo poi come gestire Twitter da Utsui. Ovviamente oggi non parlerò di Utsui in particolare, quindi se qualcuno di voi ha bisogno di sapere un po' di più su questa piattaforma che è la nostra piattaforma di gestione social media, vi invito a partecipare a uno dei prossimi webinar dove faremo un'introduzione a Utsui oppure anche a registrarvi per i nostri webinar on demand che sono appunto webinar sempre presenti. L'ultima alternativa che avete da pochi giorni, forse molti ancora non lo sanno, è il nostro canale YouTube con tutte le registrazioni dei webinar passati, quindi anche questa è un'altra risorsa che avete per imparare un po' di più. Ultimo punto, le applicazioni per Twitter in Utsui. Questa è una cosa che adesso andremo a spiegare un po' meglio perché sicuramente se non sapete, se non conoscete Utsui, se non lo usate, il quinto punto sarà un po' oscuro, quindi lo spiegheremo meglio più avanti nel corso del webinar. Parliamo un po' delle basi per iniziare a lavorare con Twitter, ma prima di farlo, un simpatico questionario che sicuramente ho cominciato a usare recentemente nel corso degli ultimi webinar e devo dire che è una risorsa molto interessante perché mi permette di capire un pochino meglio la mia audience, quindi chi sta guardando il webinar. La mia prima domanda è proprio questa, voglio chiedervi se usate effettivamente Utsui, scusate, se usate Twitter per la vostra azienda. Dovreste avere lo schermo davanti a voi, vi basta cliccare sulla risposta. Vi lascio ancora qualche secondo per rispondere, mi sembra che la maggior parte di voi abbia già votato, già dato la sua risposta e mi fa piacere vedere che la maggioranza per ora ha detto di sì, quindi l'80% ha detto di sì. Vi lascio 5 secondi se volete ancora dare la vostra risposta, poi chiudo il questionario. Perfetto, siamo al 90% di persone che hanno votato e vi faccio vedere i nostri risultati. Il 78% ha detto di sì e il 22% ha detto di no. Quindi vuol dire che il 78% delle persone che partecipano oggi al webinar, noi siamo circa 50 per darvi un attimo l'idea delle dimensioni, hanno detto che usano Twitter per la loro azienda, cosa che sicuramente mi fa piacere e sicuramente dimostra che in realtà Twitter è più usato di quanto non si pensi, anche in Italia dove siamo un po' dei late adopter, per chi sa cosa significa. Andiamo quindi a vedere un po', torniamo alla nostra presentazione, andiamo a vedere le basi quindi per iniziare a lavorare con Twitter. Innanzitutto che cos'è questo Twitter di cui si parla tanto? Per chi non lo usa forse ancora non ha molta familiarità con i termini di base. Abbiamo questa sorta di terminologia specifica del social network che è molto diversa da quella di Facebook o di altri social network, un po' più, come dire, un po' più semplici forse, non saprei, un po' più lineari. Twitter ha una sua terminologia specifica. Ovviamente Twitter nasce da tweet, per chi non lo sapesse tweet vuol dire cinguettare, cinguettio, quindi è proprio come una sorta di cinguettio continuo. Il nome gli è stato dato perché appunto questa sorta di messaggio molto breve, questa sorta di cinguettio, è effettivamente tanto breve che ovviamente molto rapido. Un tweet è composto di 140 caratteri, quindi 140 caratteri è veramente poco per esprimere un messaggio, eppure ci riescono a stare, credo, le prime due righe della Divina Commedia. Credo di aver letto questa nota simpatica in un articolo, pare che le prime due righe della Divina Commedia riescano a stare in un tweet, quindi pare che alla fine non sia poi così corto. Un tweet quindi è questo messaggio molto corto di 140 caratteri. All'interno del tweet possiamo scrivere puro testo, quindi possiamo scrivere semplicemente parole, frasi senza nessun simbolo, oppure possiamo utilizzare i simboli tipici di Twitter, che sono gli hashtag e le menzioni. Ora questo hashtag, che è una cosa abbastanza strana per chi non è ancora entrato nella mentalità di Twitter, e effettivamente mi risultava molto complesso all'inizio quando iniziai a lavorare con Twitter, e ricordo che iniziai a lavorare con Twitter e chiedevo ai miei amici che già utilizzavano Twitter da tanto, qual era un po' il senso di utilizzare queste menzioni, questi hashtag, è tutto molto confuso. Un po' alla volta si capisce però che cosa stanno a dire questi hashtag, sono praticamente etichette che noi mettiamo ai nostri messaggi per far sì che le persone riescano a capire immediatamente il senso del messaggio, non il contenuto del messaggio. Per esempio questa mattina se voi volete scrivermi una domanda, appunto potete utilizzare l'hashtag UtsuitPro, che è uno degli hashtag che usiamo per i nostri webinar. Di fatto è come che mi stesse dicendo, stesse mettendo un'etichetta sui tweet che inviate con le domande per dirmi questo tweet contiene una domanda su UtsuitPro, quindi è proprio come un sistema di etichettatura. Ovviamente non c'è una regola specifica per gli hashtag, ovvero non esiste una lista di hashtag accettati e hashtag non accettati. Tutto quello che è una parola può essere trasformato in un hashtag, e lo dico perché a volte ricevo questa domanda, dove è la lista degli hashtag? Quali sono gli hashtag che posso usare? Non c'è una lista, non c'è una lista ufficiale dove diciamo questo hashtag si può usare, questo hashtag non si può, questo hashtag non esiste. Di fatto tutto quello che potete scrivere può diventare un hashtag, quindi anche parole messe insieme, potete mischiare parole come facciamo noi, per esempio UtsuitPro ovviamente sono due parole, ma se le unite diventa un'unica etichetta. Tenete presente che se separate le due parole, per esempio se scrivete UtsuitPro separato, quindi con uno spazio tra Utsuit e Pro, e mettete l'hashtag davanti alle due parole, verrà preso come hashtag solo la prima parte. Se mettete uno spazio, tutto quello che è dopo lo spazio ovviamente non rientra nell'hashtag. Le menzioni sono più o meno simili agli hashtag, nel senso che tutto quello che mettiamo dopo la chiocciola diventa una menzione. Qui però esiste una regola, nel senso che le menzioni devono essere, solitamente sono nomi di utenti, quindi non possiamo inventare le menzioni come facciamo per gli hashtag, ma dobbiamo sapere il nome dell'utente specifico. Se volete contattarmi su Twitter, ad esempio, scrivereste un tweet con chiocciola utchiara. Chiaramente anche qui se separate ut, quindi la prima parte H-O-O-T, e mettete uno spazio, chiaramente non mi arriva la notifica di menzione, perché non è il mio nome Twitter. Dovete prendere esattamente il nome Twitter dell'utente. La cosa interessante è che quando menzionate un utente, questo utente riceve una notifica nella sua area di notifiche. Questo significa che ovviamente c'è un'interazione molto semplice, molto facile su Twitter. Noi possiamo menzionare anche persone che non ci seguono o che noi non seguiamo. Quindi chiaramente, vedete la bellezza di questo social network, è che volendo potete scrivere un tweet al Presidente della Repubblica e gli arriverà nelle sue notifiche. Ora, non so se ha un account di Twitter, ma potenzialmente sì. So che molti politici ce l'hanno, quindi se volete provare, non so se risponderanno, forse molti non risponderanno, però c'è questa possibilità di parlare con persone che non vi conoscono. Quindi potete utilizzare questi hashtag per inviare un messaggio specifico pubblico, tenete presente che è pubblico, a qualunque utente di Twitter. Ora, perché twittare? Fondamentalmente ci sono, direi, un paio di ragioni per cui twittare. O lo fate per livello personale, nel senso che twittate i vostri amici, fate sapere che cosa state facendo, oppure lo fate per motivi professionali, quindi, diciamo, aziendali. In realtà funziona sia per freelance, sia per aziende, quindi che siete un'azienda o che siete un freelance cambia poco. Stiamo sempre parlando di utilizzare Twitter a livello professionale, no? A questo punto Twitter diventa uno strumento con il quale possiamo andare a condividere o le nostre idee, in particolare, quindi se vogliamo condividere le nostre idee con altre persone, o per andare a dimostrare, tra virgolette, la nostra competenza, se siamo freelance, le nostre capacità, oppure i nostri prodotti, i nostri servizi, se siamo un'azienda. Ma in realtà possiamo condividere contenuto di qualunque tipo. e andremo a vedere tra poco quali sono le regole, tra virgolette, di una buona strategia per l'uso di Twitter. Un'altra cosa di cui occorre parlare è il concetto di chi seguire, no? Quando voi create un account su Twitter, Twitter vi suggerisce di seguire qualche persona inizialmente. Se non sapete il motivo di questa cosa, ve lo dico subito, è stata fatta una ricerca da parte di Twitter ed è stato provato che se seguite, se iniziate a seguire almeno cinque utenti, la possibilità che rimaniate poi su Twitter aumenta. Quindi questa è una ricerca, tra virgolette, di customer retention. Non so se in italiano si può dire ritenzione dei clienti, ma insomma, come trattenere utenti sulla piattaforma. E quindi questo è uno dei modi che Twitter usa per trattenere i suoi utenti sulla piattaforma. Se iniziate a seguire quattro o cinque profili, è come che immediatamente riusciate a iniziare a capire il beneficio di essere su Twitter. Chiaramente, se create un account e non seguite nessuno, il vostro feed di notizie, ovvero la sezione in cui vedete tutti i tweet delle altre persone che seguite, sarebbe vuota e quindi chiaramente potreste stare a fissare il vostro account di Twitter e dire perché l'ho creato, non ha assolutamente senso. Invece, se iniziate a seguire alcuni account che possono essere account pubblici come canali TV, giornali, ecco, anche solo per avere le notizie, potete seguire personaggi politici, cantanti, personaggi famosi, iniziate col seguire appunto persone pubbliche se volete. Dopodiché, in un secondo momento, quando iniziate a vedere il senso appunto di seguire persone, riuscirete a vedere che in realtà comincia a essere utile seguire persone di settore, del vostro settore. Quindi chiaramente se lavorate nel design, graphic design per esempio, potrebbe essere un'idea molto intelligente seguire blog di graphic design, seguire colleghi, personaggi del settore, proprio per rimanere informati delle ultime notizie di settore della vostra industria. Ecco, quindi direi che come primo passo potete iniziare a seguire personaggi pubblici, canali tv e testate giornalistiche, come secondo passo iniziate a seguire qualche personaggio influente della vostra azienda. Questo è ovviamente il ben noto profilo Twitter. Chiaramente ci sono tanti elementi, quindi vi ho lasciato questa schermata con un po' di spiegazioni per riuscire a orientarci nel profilo Twitter. Ecco, vedete che nel profilo Twitter abbiamo una cover, è molto grande, quindi credo che le misure ufficiali appunto siano intorno ai 1500 per 500 pixel e ovviamente è una possibilità per voi di far vedere chi siete, di far capire un pochino di più su di voi e sulla vostra azienda. Ovviamente questo è il nostro amico Auli che è la nostra mascotte, quindi ovviamente questo è il modo, è il mio modo di far vedere l'azienda per la quale lavoro, quindi potete fare una cosa simile. Scegliete un'immagine carina, non deve essere un'immagine assolutamente seriosa, però deve essere un'immagine che trasmette qualcosa. Ovviamente questa invece è l'immagine del vostro profilo. Ecco, non mettete foto di due, tre persone insieme, se è una vostra immagine professionale, su Facebook si può anche lasciar correre il fatto che ci siano tre persone in una foto di profilo anche se obiettivamente poi non si capisce chi è il proprietario di quel profilo, lo trovo un po' come dire un po' ambiguo, però sicuramente su Twitter non fatelo. Mettete una foto normale del vostro profilo. Se invece è un'azienda, se invece state creando un profilo Twitter per un'azienda, andate a mettere il logo dell'azienda, quindi in questo caso qui se avete visto l'account di Uzzio d'Italia abbiamo il nostro guffetto italiano. Qui sotto c'è una piccola descrizione, ora la descrizione è molto corta, ovviamente credo siano 140 caratteri anche la descrizione, quindi non ci si può sbizzarrire più di tanto, ma devo ammettere che la costrizione tra virgolette c'è questo limite di spazio fa sì che su Twitter si dica solo l'essenziale e non è male soprattutto per noi italiani che a volte tendiamo a parlare veramente troppo, cioè a dilungarci troppo e perdiamo di vista il contenuto essenziale. Quindi Twitter è un buon esercizio secondo me, soprattutto per noi italiani, di rimanere sul pezzo, è un esercizio che ci obbliga a rimanere sul pezzo, cioè a rimanere concentrati sull'essenziale, cosa che devo dire veramente ci fa solo bene. in alto abbiamo home, notificazioni, notifiche, messaggi e discover. La parte più importante è ovviamente le notifiche perché qui vedrete tutte le persone che vi menzionano, le persone che vi seguono, che iniziano a seguirvi o che vi retweetano. Ora, chiaramente non abbiamo specificato il retweet è quando retweetiamo un'altra persona e casualmente in questa schermata avevo retweetato il carissimo Demetrio che diceva che aveva appunto detto qualcosa sul marketing sui social media. Vedete che qui sopra appare appunto Chiara Grassilli retweeted, quindi avevo retweetato e di fatto appare nel mio profilo come se andassi a ripubblicarle ripubblicare quello che Demetrio aveva detto. Ora, questi invece quelli che vedete qui sono tre sezioni in cui vedete i tweet, ovviamente questi sono i vostri tweet che pubblicate che appaiono anche nella sezione in basso, following sono le persone che voi seguite e i follower sono invece le persone che seguono voi, quindi ovviamente abbastanza ovvio ma lo ripetiamo per sicurezza. C'è una differenza interessante tra tweets e tweet e reply che in effetti non è per niente scontata. I tweet sono i tweet originali che scriviamo, i tweet e reply sono le persone che mi scrivono ma mettendo il mio la mia hashtag scusate il mio il mio nome utente con la chioccia là davanti quindi sono sono le persone che inviano un tweet che inizia con il mio nome o che io invio che io invio inviando un tweet con una persona specifica all'inizio del tweet quindi in questo caso se io rispondo a una persona rispondo a una persona che inizia e ovviamente il mio tweet inizia con il nome di quest'utente non apparirà nel mio feed generale perché magari diventa noioso per le persone che mi seguono vedere le mie risposte specifiche ma andrà a finire in twitter reply quindi ecco una distinzione che magari non sapevate. come iniziare a lavorare con twitter ovviamente le cose da fare sono tante all'inizio può sembrare veramente troppe cose ecco da tenere presente e a questo proposito vi lancio il mio secondo questionario ovvero qual è la difficoltà maggiore nella gestione di twitter lancio il questionario perché voglio capire quali sono le difficoltà maggiori che incontrate quando iniziate a lavorare con twitter o anche dopo un po' di tempo che lavorate con twitter vi sono vari aspetti complessi diciamo nel lavoro sui social media il primo a mio parere è sapere che cosa dire quindi trovare il contenuto da condividere il secondo ovviamente è trovare follower quindi anche riuscire a capire come interagire poi con la nostra audience e come aumentare i nostri follower e un pochino ovviamente anche diciamo capire come funziona la piattaforma in generale mi vi lascio ancora qualche secondo pare che per ora la risposta più votata sia come trovare follower sicuramente significa che è una dell'area di maggiore difficoltà cosa che ha perfettamente senso ed era un po' la risposta che mi aspettavo pare che abbiano votato quasi tutti vado a chiudere il questionario e vi vado a condividere i risultati allora il 45% dice che la difficoltà maggiore è trovare follower subito dopo abbiamo il 39% che dice come interagire invece con i miei follower trovare contenuto pare che non sia poi così complesso e capire come funziona in realtà pare che sia abbastanza semplice andiamo a chiudere il nostro questionario e torniamo alla presentazione iniziamo a lavorare con twitter in 6 steps quindi 6 mosse che ci aiutano a iniziare a lavorare con twitter uno dei punti che evidenzio sempre quando parliamo di social media o di marketing in generale è la necessità assoluta di individuare la nostra audience sembra una cosa abbastanza ovvia e scontata e anche noiosa un lavoro noioso che in realtà è pre diciamo è anticipa il lavoro cioè la fase prima di iniziare a lavorare quindi è veramente apparentemente un momento noioso quasi di analisi abbastanza sterile invece non è assolutamente così prima di iniziare a lavorare o eventualmente se abbiamo già iniziato a lavorare prendiamoci una pausa di riflessione strategica occorre individuare la nostra audience questo non è veramente un modo di dire è assolutamente una necessità perché perché prima di tutto sapere con chi stiamo parlando sapere con chi stiamo parlando è fondamentale per capire che cosa dire nel senso se noi siamo fuori con i nostri amici ma in realtà immaginate che non sapete chi sono i vostri amici che vestono delle maschere quindi voi non sapete chi c'è dietro la maschera che non sapete neanche di cosa parlare quindi avere un audience che in realtà non si conosce è veramente come parlare a una persona con una maschera di cui non sappiamo l'identità non sappiamo i bisogni le necessità e quindi non riusciamo neanche a definire bene il nostro messaggio non riusciamo a capire neanche dove sta la nostra audience come si comporta che cosa dobbiamo dire per interagire dove la troviamo quindi veramente capire la nostra audience è il passaggio secondo me più importante per quello lo metto sempre come primo punto individuare la nostra audience vuol dire per esempio noi con il nostro prodotto il nostro servizio chi stiamo cercando di aiutare il marketing in fondo è effettivamente riuscire a capire chi stiamo cercando di aiutare che bisogno stiamo cercando di risolvere che necessità non è vendere un servizio è veramente riuscire a risolvere il problema di qualcuno nel momento in cui voi riuscite a individuare chi sono quelle persone di cui state cercando di risolvere un problema allora andrete a chiudere le vendite ma cercare di spingere semplicemente il nostro prodotto andando a scrivere clicca sul mio link registrati alla mia newsletter vedi il mio prodotto guarda le ultime offerte è veramente una promozione abbastanza sterile che sicuramente farà molta fatica a chiudere delle vendite cercare di capire di cosa parlano anche questo è un punto fondamentale per riuscire a trovarli quindi molti di voi hanno detto che il problema più grande è capire come aumentare i nostri follower se vogliamo trovare i nostri follower occorre prima di tutto capire chi sono sono uomini o sono donne dove vivono quanti anni hanno che cosa fanno che fanno un lavoro fanno un lavoro statico fanno un lavoro dove sono sempre fuori quindi forse lavorano più da cellulare hanno dei figli quindi magari hanno degli orari diversi da quelli che abbiamo noi ecco proprio capire la nostra audience e capire quali sono i loro interessi ci aiuta a trovarli quindi ad aumentare i nostri follower trovare parole chiave hashtag da seguire è ovviamente una conseguenza del cercare di capire di cosa parlano se noi stiamo cercando di vendere un prodotto che risolve un problema di salute specifico chiaramente andiamo a concentrare la nostra attenzione sui bisogni delle persone che hanno questo problema di salute o se stiamo cercando di vendere se abbiamo un'azienda sportiva che vende prodotti sportivi per uno sport in particolare chiaramente le parole e gli hashtag che andremo a seguire su twitter saranno legate e relazionate con lo sport con lo sport specifico questo va abbastanza da sé cioè quando si dice ovviamente diciamo ma ovviamente è così però non è tanto ovvio perché spesso vedo in realtà profili twitter dove le aziende non fanno altro che promuovere i loro prodotti e non si curano dei bisogni della loro audience e questo è il modo più facile per perdere la propria audience e quindi chiaramente andiamo a trovare le parole chiave più importanti della nostra azienda del nostro settore di lavoro del nostro prodotto del nostro servizio e che identificano i bisogni della nostra audience una volta identificate queste parole chiave andiamo a cercarle con twitter appunto e con utsuit e andiamo magari a rituitare il contenuto cliccare su favorito soprattutto se questo contenuto viene dai nostri possibili follower perché vogliamo fargli sapere che siamo attenti abbiamo l'orecchio aperto ai loro bisogni e poi ovviamente iniziamo a pubblicare contenuto rilevante quindi chiaramente se abbiamo un blog cerchiamo di promuovere i nostri articoli di blog sul nostro profilo twitter ma diventiamo anche cerchiamo di diventare anche curatori di contenuto cioè andiamo a trovare che cosa si dice nel nostro settore e andiamo a diciamo a proprio diventare curatori del contenuto migliore lo cerchiamo su twitter lo mettiamo insieme nel nostro profilo e lo offriamo ai nostri follower perché la nostra impresa dovrebbe essere su twitter questa è secondo me una domanda talmente banale che non volevo neanche metterla ma in realtà è importante capire soprattutto per chi in realtà non ha familiarità con lo strumento è importante mettere in chiaro quali sono i vantaggi quali sono i motivi per cui bisognerebbe stare su twitter a livello di impresa prima di tutto perché la maggior parte dei nostri clienti è già sui social e sui social chiaramente qui mi potreste dire beh però sappiamo benissimo che i nostri clienti sono su facebook chiaramente sono su facebook ma se voi date un'occhiata ai dati che vengono condivisi sull'uso dei social media in realtà ci sono molte decine di migliaia di persone su altri social che quindi non necessariamente twitter ma può essere twitter pinterest instagram quindi non è vero che sono solo su facebook chiaramente è più facile dire sono solo su facebook così ci preoccupiamo di curare solo la nostra pagina ma appunto non vi offro scorciatoie non vi offro scuse vi voglio aiutare a effettivamente creare una presenza sui social media che abbia un vantaggio effettivo quindi non ci nascondiamo dietro un dito dicendo i nostri follower i nostri clienti sono solo su facebook non è vero e ovviamente se noi non siamo sugli altri social media ci stiamo perdendo una grossa fetta dei nostri clienti o possibili tali quindi se le persone sono già su twitter ovviamente vogliamo esserci anche noi vogliamo esserci anche noi per eventualmente essere lì quando ci cercano perché se fanno una ricerca pre vendita ovviamente vogliamo che ci trovino per magari appunto rispondere anche alle domande pre vendita se appunto invece sono già clienti possiamo magari dare supporto post vendita quindi dare supporto ai nostri clienti con twitter si possono anche cercare clienti in modo proattivo e questo lo vedremo tra poco quando andiamo a vedere quando andiamo a vedere come fare ricerche per parola chiave e poi anche per portare più traffico al nostro sito perché ovviamente i social sono un ottimo canale di traffico al nostro sito e una cosa che non ho menzionato qui è che ultimamente sappiamo che google sta dando molta più importanza sempre più importanza al feedback sociale quindi a quello che è feedback degli utenti quindi più che parole chiave ottimizzazione SEO eccetera è molto importante il feedback degli utenti quindi quanti più share like retweet avete sui vostri contenuti quanto più google è tra virgolette convinto che gli utenti apprezzano il vostro contenuto questo è l'interesse principale di google e quindi vogliamo vogliamo fare sì che gli utenti dimostrino a google che il nostro contenuto è di valore perché in questo modo aiuterà anche il nostro posizionamento quindi ci sono tanti veramente così tanti vantaggi che secondo me potreste dargli un'opportunità ovviamente parlo per quel 20-30% che ha detto che non usa twitter capisco benissimo la difficoltà di avere uno strumento in più da gestire ma vedete che i vantaggi sono veramente notevoli quindi a questo punto il gioco vale assolutamente la candela anche perché guardate un po' questi dati questi dati in mappa twitter è un'azienda ovviamente americana ma solo il 30% di twitter degli utenti twitter sta in nord america gli altri sono sparsi in europa in asia africa e sud america soprattutto se abbiamo clienti mondiali cioè in tutto il mondo e non solamente in italia teniamo presente che appunto anche all'estero twitter è usato e quindi vogliamo essere lì dove anche i nostri clienti esseri stanno parlando bene ora andiamo a vedere probabilmente la mia parte preferita quindi come gestire twitter da uzzui twitter è uno strumento abbastanza semplice tra virgolette quindi se andiamo velocemente su se andiamo velocemente su su twitter andiamo a vedere che cosa effettivamente che cosa che cosa si fa su twitter quindi questo è il nostro account il nostro account di twitter se vogliamo scrivere un messaggio andiamo a scrivere il nostro messaggio andiamo a comporre il nostro tweet lo andiamo a inviare quindi eccoci qua ciao a tutti benvenuti a questo webinar su Uzzio e Pro lo andiamo a twittare vedete che ho aggiunto un hashtag l'hashtag cambia colore perché diventa un link lo andiamo a twittare ed ecco che abbiamo il nostro tweet questa è la nostra home quando andiamo su twitter.com questa è la nostra home dove vediamo tutti il feed di tutte le persone che seguiamo in realtà vedete che qui ne abbiamo uno solo ovviamente twitter ha una colonna e quindi possiamo vedere una colonna sola con i nostri feed dove è tutto tutto mischiato tra virgolette cioè tutti i nostri follower scusate tutte le persone che noi seguiamo sono qui qui possiamo vedere come abbiamo visto prima i nostri tweet i following i followers le nostre notifiche e vedete che ah benissimo vedo che qualcuno ha già iniziato a fare screenshot della nostra presentazione cosa che mi fa enormemente piacere vedete twitter è molto molto carino come layout ovviamente mi piace tantissimo ma ha un problema di facilità di lavoro cioè esiste una una colonna con questa colonna cosa facciamo una cosa alla volta quindi o siamo sulle notifiche o siamo sulla home o siamo sui messaggi e così via vediamo ora cosa succede quando andiamo su Hootsuite andiamo su Hootsuite e improvvisamente abbiamo una dashboard vuota scherzo a volte si si blocca un po' eccoci qua abbiamo una dashboard dove improvvisamente abbiamo varie colonne no? e quindi cosa succede? è che quella colonna che prima avevamo davanti a noi in realtà qui in realtà qui riusciamo a lavorare su varie colonne quindi il concetto è lo stesso ma abbiamo semplicemente più spazio più modo più possibilità di vedere vari flussi di informazione e questi sono proprio quelli che sono sono flussi di informazione ora un breve passo indietro per vedere che cos'è questa dashboard credo che molti di voi siano già in realtà in realtà siano già abbastanza familiari con con la nostra piattaforma ma per chi non lo fosse questa è la vostra dashboard dal menu di sinistra potete passare da una sezione all'altra andate nella sezione stream o colonne se già si è lavorato in italiano e entrate in questa sezione dove vedete un pannello che è fatto di varie schede qui in alto sono come le schede del vostro browser ma ognuna di queste schede è in realtà un contenitore è un contenitore dove voi andate a creare le varie colonne che vi aiutino a gestire il vostro profilo social quindi ovviamente non c'è un giusto e sbagliato questo lo voglio dire da subito non è giusto fare come ho fatto io è sbagliato fare in altri modi assolutamente dipende da come lavorate ovvero se lavorate con i vostri profili aziendali forse ha più senso lavorare creare una una scheda per ogni profilo quindi in questo caso una twitter facebook linkedin e così via ma se lavorate per vari clienti perché magari avete un'agenzia o siete freelance quindi fate social media management per vari clienti o content marketing o design qualsiasi tipo di agenzia che lavori appunto per vari clienti a questo punto vedete che non avrebbe non avrebbe molto senso avere un account di twitter dove avete gli account di 10 clienti ha più senso creare una scheda per ogni cliente siamo quindi dentro la mia scheda twitter dove ovviamente io ho già creato varie colonne perché perché ci lavoro tutti i giorni quindi chiaramente sono sono abbastanza attrezzata con le colonne ne vado a cancellare qualcuna così ripartiamo ripartiamo da zero devo cancellarne qualcuna perché vi ricordo che dentro ogni scheda esiste un massimo cioè potete creare un massimo di 10 colonne in realtà però potete creare fino a 20 schede quindi sono 20 schede con 10 colonne l'uno vuol dire che potete creare in totale fino a 200 colonne in tutto nella vostra dashboard quindi vedete che passando da una scheda all'altra appaiono le varie il contenuto diverso che abbiamo creato dentro ogni scheda quindi su twitter cosa facciamo abbiamo innanzitutto le menzioni perché le menzioni è veramente l'aspetto principale cioè chi ti menziona chi ci menziona deve avere una risposta in brevissimo tempo per esempio ecco qua abbiamo le nostre domande di chi sta seguendo il webinar prendo una domanda che ho visto prima che mi piaceva così intanto vediamo anche come funziona Felicechi che vediamo come si chiama Alessandra perfetto spero che non sia un problema che ho usato il tuo tweet come esempio ci fa una domanda che è che significa domande prevendita guarda se ti potessi dire tutte le domande prevendita che riceviamo da chi sta pensando di aprire un account su Cipro veramente potremmo stare una settimana le domande prevendita sono di fatto i dubbi che un'azienda ha prima di concludere una vendita soprattutto se si tratta di un software ad esempio quindi chiaramente per chi sta pensando di comprare un paio di Nike non c'è una domanda prevendita conosce che sono un paio di scarpe più o meno saranno un paio di scarpe non c'è grosso dubbio ma per chi sta cercando di comprare un software un servizio chiaramente ci sono dubbi dubbi vari ecco sul costo sulla qualità sulle funzionalità una domanda prevendita e quindi un dubbio che un utente può avere prima di acquistare presso la tua azienda ora a parte il fatto di aver risposto alla domanda su Twitter volevo farvi vedere come possiamo rispondere invece per iscritto vedete che quando passo il mouse sopra la domanda stessa mi appare un piccolo menu con quattro opzioni uno è reply ovvero rispondi rituita manda un messaggio diretto poi abbiamo un menu a tendina con varie opzioni di cui reply all quindi rispondi a tutti cliccare come favorito mandare per email e così via ora una volta che una persona ci menziona è come che un nostro amico ci facesse una telefonata vogliamo rispondere in qualche modo perché questa persona si è presa il disturbo tra virgolette di mandarci un tweet specifico quindi si è disturbata per comunicare con noi e chiaramente gli vogliamo rispondere vogliamo che si senta apprezzata nel tempo che ha dedicato a scriverci una domanda anche che sia una lamentela ovviamente è più carino rispondere a messaggi simpatici e di supporto però ecco anche un cliente che manda una lamentela è una richiesta di contatto di aiuto di conversazione quindi vogliamo rispondere in questo caso la prima cosa che faccio normalmente se una persona mi scrive è cliccare su favorito perché intanto voglio dargli il riconoscimento che ho visto il messaggio chiaramente se poi abbiamo una risposta da dargli veniamo qui e clicchiamo su reply e qui possiamo scrivere la risposta alla nostra domanda per esempio mi avevano chiesto che significa domanda pre vendita possiamo dire è una domanda prima dell'acquisto per chiedere informazioni ovviamente la risposta è un po' limitata ma insomma avete capito il concetto si può rispondere direttamente da Utsuite andiamo a inviare la domanda ora in questo caso inviare il twitter in questo caso avevo la auto schedule l'autoprogrammazione aperta quindi la cancelliamo e andiamo a cliccare su send now quindi invia ora vedete cosa succede andiamo a rispondere direttamente dalla nostra dashboard quindi quello che su twitter facciamo in una pagina alla volta cioè o siamo nelle menzioni o siamo nel feed o siamo nella home qua lo facciamo tutto insieme qui vediamo tutto insieme perché io vedo le mie menzioni ma a fianco vedo anche i miei tweet inviati cosa che mi permette di fare una sorta di controllo incrociato per sapere se io risposto a tutte le menzioni è una cosa veramente molto carina e molto pratica cioè molto organizzata posso vedere i miei tweet rituitati posso monitorare il mio hashtag UtsuitPro e posso fare appunto varie cose come ho fatto a creare queste colonne andiamo su ad stream vedete che siamo su twitter qui abbiamo stream o colonna selezioniamo il profilo perché ovviamente vedete che su UtsuitPro possiamo avere fino a 50 profili tra twitter facebook google plus quello che volete e poi selezioniamo il tipo di informazione che sia la home feed che siano le menzioni che siano i messaggi diretti messaggi inviati favoriti eccetera ora in questo caso se per esempio voglio vedere i miei tweet programmati clicco su più e qui sotto vedete che adesso è apparsa nel background ecco che abbiamo i nostri tweet programmati allora ne approfitto un attimo per rispondere a un paio di domande che vedo qui con l'hashtag UtsuitPro allora Roby che immagino sia per Roberto mi chiede come si fa a settare i suggested post usando parole chiave in italiano restituisci risultati solo con keyword in inglese e purtroppo sì è vero la versione suggested content è ancora in beta e quindi è in inglese non so se effettivamente verrà aperta anche all'italiano in realtà non lo sappiamo appunto lo stanno ancora testando quindi per il momento a breve non è prevista una appunto un'estensione anche ad altre lingue purtroppo è solo in italiano in realtà a volte dipende dalla parola chiave che cerchiamo a volte offre risultati anche in lingua se la parola chiave è in italiano ma è più un caso cioè è più sporadico che è una cosa sistematica quindi purtroppo per il momento non c'è molto da fare l'indecisionista che andiamo subito a vedere il profilo e non ha nome quindi lo chiameremo l'indecisionista ci chiede vorrei aggiungere il twitter del progetto al quale lavoro ma non è il mio twitter personale come posso fare? allora ottima domanda se voi lavorate come freelance per i vostri per i vostri clienti purtroppo in questo momento occorre che gli chiediate la password perché anche se volete lavorare tramite Hootsuite quando andate ad aggiungere il social network quindi andate a dire connetti con twitter in questo momento vedete che vi chiede la password username e password quindi purtroppo dovete chiedere la password l'altra cosa che potete fare è eventualmente una specie di trucco che che consiste nell'andare a creare un'organizzazione e invitare farvi invitare dentro l'organizzazione del cliente ora questa è una una parte abbastanza complessa che spieghiamo più a fondo nel webinar sulla collaborazione mi pare che ci sia una registrazione sul nostro canale youtube quindi eventualmente date un'occhiata a quella brevemente l'organizzazione è un'entità all'interno del vostro account di Hootsuite dove voi potete invitare varie persone quando invitate un membro potete dargli accesso a vari social senza che lui debba sapere la password quindi eventualmente potreste chiedere al vostro cliente di creare un account Hootsuite Pro creare un'organizzazione e invitarvi dentro la sua organizzazione così che lui vi può dare accesso al suo account di twitter di facebook quello che volete senza dirvi la password so che non aiuta molto questa spiegazione un po' rapida ma purtroppo ecco non abbiamo il tempo di guardare tutto l'aspetto di collaborazione quindi prendetela un po' così se eventualmente avete necessità di capire meglio vi rimando il webinar sulla collaborazione non vedo non vedo altre domande per ora quindi continuiamo continuiamo con la nostra presentazione torniamo velocemente alla nostra dashboard e vediamo un po' questo più o meno l'abbiamo già visto come gestire twitter da Hootsuite abbiamo visto come collegarlo come scrivere i nostri profili ecco una parte molto interessante della gestione di twitter tramite Hootsuite è che possiamo monitorare parole chiave quindi esattamente come avete visto monitoro l'hashtag Hootsuite Pro possiamo monitorare qualsiasi parola chiave incluse la concorrenza quindi possiamo monitorare brand concorrenti possiamo vedere possiamo monitorare come la nostra community si comporta con i concorrenti ovvero se c'è interazione se parlano se retweet eccetera capire anche gli stili di comunicazione dei concorrenti comprendere quali dei loro tweet ha più o meno successo e fare ricerche geolocalizzate andiamo a vedere rapidamente sulla dashboard come funziona se vogliamo se vogliamo fare una ricerca per parola chiave possiamo andare a fare nuovamente un nuovo stream e questa volta invece di stream o colonna andiamo a fare ricerca ora qui possiamo fare ricerca appunto per parola chiave quindi se è per esempio social media perché ovviamente in questo caso facciamo una ricerca per parola chiave del nostro settore quindi in questo caso per me sarebbe social media e andiamo a selezionare un profilo con il quale eventualmente potrò rituitare i tweet che trovo quindi aggiungo la mia la mia colonna qui la possiamo allargare un po' se vogliamo una visualizzazione più chiara e vedete che abbiamo un elenco di tweet che contengono la parola chiave social media molto interessante se vogliamo fare quel lavoro che dicevamo prima di aggregare contenuto di essere curatori di contenuto significa che se troviamo dei tweet interessanti li rioffriamo alla nostra audience chiaramente qui cosa succede che abbiamo tweet in tutte le lingue incluso mi sembra avevo visto un paio di tweet in tedesco quindi sicuramente diventa complesso trovare del contenuto interessante cosa facciamo allora andiamo ad aggiungere un altro stream e questa volta facciamolo un po' più rilevante al nostro caso quindi siccome immaginiamo di parlare di lavorare con un pubblico italiano aggiungiamo un filtro linguistico in italiano che si ottiene con il codice lang 2.it questo è un trucchetto che forse alcuni di voi non conosceranno perché è come dire un trucchetto che non è spiegato sulla dashboard quindi per questo vi invito a partecipare ai nostri webinar dove vi sveliamo tutti i nostri trucchi più interessanti vedete che in questa colonna abbiamo solamente tweet sui social media in italiano che diventa già più interessante chiaramente vedete le migliori aziende sui social media e 6 consigli per migliorare assolutamente ottimo anche perché Vincos è un'autorità nel settore quindi lo andiamo a rituitare vedete come è semplice rituitare posso andare a cliccare sì quindi lo rituito immediatamente oppure posso fare edit e in questo caso posso eventualmente anche programmare il mio retweet quindi se sto programmando che cosa andrò a scrivere su tweet nel corso della prossima settimana i retweet sono sicuramente una cosa interessante e vedete che potendoli programmare diventano ancora più facili anche perché in questo caso vedete la bellezza di twitter è questa abbiamo condiviso il tweet di Daniela Forti che stava a sua volta condividendo il tweet di Vincos quindi in questo caso quando io vado a inviare questo tweet riceveranno una notifica sia Daniela Forti sia Vincos quindi entrambi vedranno che appunto Outchiara ti ha rituitato molto carino innanzitutto sto facendo un favore alla mia audience cioè ai miei utenti che mi seguono che vedranno questo tweet magari scopriranno appunto un articolo interessante che altrimenti non avrebbero visto e poi sto anche creando una sorta di relazione con appunto queste persone che hanno scritto il tweet ovviamente non è una relazione di amicizio di particolare profondità però come dire abbiamo aperto un canale comunicativo sanno che ho visto il loro tweet sanno che mi interessa quello che scrivono ovviamente qui a fianco andiamo a selezionare i profili su cui vogliamo pubblicare e programmare questo tweet e poi andiamo a fare schedule schedule ovviamente prima di fare schedule andiamo a selezionare quando vogliamo programmarlo se invece non ci vogliamo preoccupare di decidere o giorno e ora andiamo ad attivare l'auto schedule che è una funzione molto molto carina che mi permette di non preoccuparmi di quando programmare il messaggio ma lascia il lavoro a Hootsuite perfetto quindi ecco questo lavoro che abbiamo fatto con social media lo possiamo fare abbiamo detto anche con i nostri concorrenti quindi andiamo a raggiungere un altro stream e questa volta prendiamo un nome di un concorrente andiamo a prendere il nostro concorrente per il nostro più grande concorrente scusate a volte mi incarto con le mie parole ecco Buffer è il nostro competitor quindi possiamo fare una ricerca per semplice parola chiave per vedere tutti i tweet che contengono la parola chiave Buffer ma possiamo anche fare una ricerca per menzione quindi vedere chi li menziona l'altra cosa che si può fare che vedete se cliccate su mostro esempi è utilizzare questa ricerca che ci fa vedere tutti i tweet inviati da questo account quindi from due punti avere una ricerca con from due punti e poi l'account fa sì che vediamo tutti i tweet inviati da questo profilo proprio come avere sempre una pagina con il profilo di Buffer aperto quindi in questo caso ecco in questo caso potreste andare a vedere di che cosa parlano potete vedere le loro conversazioni vedete la bellezza e rischio tra virgolette ovviamente anche di twitter è che è tutto pubblico quindi a differenza di facebook dove abbiamo conversazioni private vedete che qui stiamo osservando la conversazione tra appunto Buffer e un loro cliente apparentemente quindi assolutamente pensate a tutta la quantità di informazioni che potete trovare gratuitamente su twitter quello che anni fa si faceva con costosissime ricerche di mercato andare a capire la concorrenza andare a capire più o meno il sentimento attorno a certe parole chiave a certi prodotti ecco si può fare adesso in modo gratuito con twitter quindi assolutamente un'ottima cosa andiamo nuovamente alla nostra presentazione perché ci sono un paio di punti che forse non abbiamo ancora menzionato ovviamente abbiamo visto come fare ricerche per brand per concorrenti ma appunto possiamo fare anche ricerche geolocalizzate che è una parte molto interessante della ricerca tramite Utsuite se torniamo a fare ricerca in questo caso possiamo andare a fare una ricerca che non solo contiene una parola chiave quindi immaginiamo che siamo in questo momento mi trovo a Londra quindi stiamo cercando di aprire un nuovo ristorante italiano vogliamo capire quanti parlano di ristorante italiano in questa zona per capire se ci potrebbe essere eventualmente buona probabilità andiamo quindi a cercare utilizziamo la parola Italian restaurant perché ovviamente siamo siamo in Inghilterra quindi ha più senso utilizzare la parola chiave inglese ma poi andiamo ad aggiungere il codice geografico e lo facciamo con questa piccola icona che abbiamo sulla destra vedete che mi va a inserire il codice geografico della mia posizione e posso anche decidere qui in fondo che forse non si vede molto bene perché c'è l'icona ma insomma c'è un 25 che sono i chilometri ovviamente questo è il raggio di azione non il raggio all'interno del quale vogliamo trovare intercettare i tweet sono ovviamente è ovviamente una cifra modificabile il minimo il raggio minimo è mezzo chilometro quindi si ottiene scrivendo punto 5 non so se lo vedete oppure ecco possiamo ampliarlo e non c'è un massimo quindi può essere anche 500 chilometri andiamo a selezionare come sempre il nostro profilo e andiamo ad aggiungere uno stream e vedete che assolutamente c'è tantissimo contenuto le persone condividono soprattutto in Inghilterra funziona tantissimo cioè usa molto di appunto andare a fare una foto a quello che si mangia quindi ecco in questo caso vedete anche Instagram sono persone che vanno ai ristoranti italiani best pizza in town già sposte da foto a mangiamo italian restaurant quindi riusciamo a vedere che effettivamente c'è un certo affetto ecco per la cucina italiana non è una grande sorpresa ma insomma è una riprova del fatto che magari è una buona idea andare a aprire un ristorante di cucina tipica italiana ecco in un quartiere in un quartiere di Londra esempio abbastanza generale ma insomma è per farvi capire effettivamente che cosa si può fare che cosa si può fare con questo strumento ecco la ricerca geolocalizzata si può fare anche con Outlet Outlet è una estensione gratuita per Chrome che potete installare gratuitamente sul vostro browser e appare come il nostro guffetto nero nell'angolo in alto a destra vi apparirà il nostro guffetto nero se voi andate su Google Map e andate a prendere un punto sulla mappa quindi ovviamente questi qui siamo siamo a Londra andiamo a prendere un punto che può essere un punto qualunque della della mappa dovrebbe apparire se è un punto di interesse eccoci qua vedete un punto di quelli che Google Map riconosce appare sulla sinistra un link che dice tweets near here questo perché appunto è parte della bellezza dello strumento twitter dove all'interno di ogni tweet viene conservata l'informazione della posizione in cui è stato inviato il tweet cosa che potremmo trovare anche diciamo inappropriata ma dove è la privacy ecco questa è una domanda etica a cui magari ci si può anche confrontare su questo punto c'è di fatto come aziende sicuramente possiamo possiamo trarre vantaggio da questa funzionalità che ci permette di sapere che cosa viene tweetato da una certa posizione quindi vedete che appare immediatamente una colonna con tutti i tweet inviati in questa posizione e possiamo cambiare il raggio quindi se vogliamo ampliarlo a 1, 5, 20 25 km possiamo farlo e abbiamo l'elenco di tutti i tweet inviati quindi nel raggio di 25 km da appunto la posizione che abbiamo identificato vedete che qui sotto andiamo a cliccare su add to hootsuite decidiamo se aggiungere una tab esistente o a una nuova tab andiamo ad aggiungerlo a una tab esistente a quella che avevamo prima su ovviamente twitter quindi andiamo ad aggiungere direttamente alla nostra tab di twitter salviamo e torniamo al nostro account qua andiamo sulla nostra dashboard e vedete che adesso nel nostro account scusate nella nostra scheda twitter se andiamo a destra andiamo a fare un po' passiamo a destra eccoci qua l'ultima colonna è quella che abbiamo aggiunto quindi adesso la allarghiamo un pochino per vederla in modo più chiaro e vedete che abbiamo appunto tweets near san james's park quindi tutti i tweet che vengono inviati anche qui vedete c'è una grande confusione quindi c'è gente che twitter di tutto quindi se vogliamo essere un po' più specifici entriamo dentro preferenze e qui possiamo andare a eventualmente filtrare solo per parola chiave oppure anche eventualmente solo per lingua italiana per vedere che cosa dicono gli italiani a londra intorno a questa posizione quindi vedete che non c'è necessità di inserire una parola chiave si può fare una ricerca per filtro linguistico e filtro geografico insieme andiamo a salvare i nostri cambiamenti e vedete che è molto interessante perché abbiamo immediatamente una fotografia di fatto della una fotografia sociale non so se si può dire ma insomma avete capito che cosa intendo è una immagine di quello che le persone scrivono via twitter quando sono a Londra ovviamente riportate questo esempio alla vostra realtà cioè cercate di adattare questo strumento alla vostra realtà se avete un ristorante se avete un hotel se siete in una grande città particolarmente turistica fate la stessa cosa al contrario quindi cercate cercate i tweet lingua inglese nell'area intorno al vostro al vostro ristorante di Roma o di Napoli che sicuramente sono nell'area buona per raggiungervi a piedi e quindi potreste magari invogliarli mandandogli una foto del vostro piatto del giorno ecco una cosa una cosa del genere tutti gli strumenti che abbiamo visto sono ovviamente disponibili tramite Utsui ma tramite Utsui abbiamo anche tantissime applicazioni le applicazioni sono di fatto torniamo sulla dashboard per andare a vedere sono di fatto appunto applicazioni che si possono installare sulla piattaforma di Utsui per aumentare le sue funzionalità vedete che dal menu di sinistra abbiamo l'app directory e potete installare tutte quelle che volete per chi di voi per chi di voi già le conosce sicuramente saprà quanti strumenti interessanti ci sono in questa directory delle app per chi di voi invece non la conosceva vi suggerisco di andare a esplorare intanto le app gratuite che trovate qui a sinistra di fatto tutti i social che non sono integrati in maniera nativa tramite diciamo dai programmatori Utsui sono è possibile che siano integrati tramite tramite app quindi ovviamente vedete instagram youtube tumblr flickr wordpress tantissimi strumenti social che potete integrare così da avere veramente tutta la vostra presenza social gestita da un'unica piattaforma estremamente comoda estremamente risparmioso in termini di tempo vi faccio vedere rapidamente anche perché siamo verso la fine del tempo a nostra disposizione quali sono le app per twitter in Utsuite vi rimando vi rimando poi al nostro webinar sulle applicazioni perché c'è tantissimo da dire potremmo stare qui un altro paio d'ore ma volevo assolutamente intanto farvi darvi un'idea di quali sono le app per per Utsuite le app di Utsuite per twitter Justin Follow che ci dice chi ci segue chi ha smesso di seguirci Social Bro ci dà un'analytics estremamente interessante su twitter quindi ci dice chi ci segue chi non ci segue quanti follower hanno se sono persone che relazioni hanno con noi ovvero se ci seguiamo a vicenda o se solo uno di noi segue l'altro la crescita la decrescita assolutamente tantissimi dati che è bene sapere demographic profiles ci dà invece dati più interessanti proprio sulla nostra audience di twitter quindi già chi già ci segue ci dà informazioni non so se vedete nello screenshot che abbiamo qui sulla presentazione ci dà informazioni su per esempio se sono uomini o donne quindi la demografia la provenienza la città ci dà l'età media e fa una previsione anche in base un'elaborazione di dati dei loro profili ci dà anche una previsione del loro guadagno cioè del loro lavoro e del loro guadagno medio cosa che può essere interessante quando andiamo a verificare di stare parlando con la giusta audience nexology 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 ci dà questa sorta di mappa che ci fa capire come le persone usano parole chiave e hashtag riffle twill ci sono anche questi due analytics tagfida è invece un'applicazione che ci permette di fare ricerca per contenuto rapidamente prima di chiudere la nostra presentazione un paio di esempi di aziende che usano twitter in maniera interessante questo è barilla australia che vedete ho fatto un piccolo screenshot di quello che rituitano e vedete che è molto comune rituitare quello che i nostri clienti dicono quindi in questo caso barilla australia ha rituitato qualcosa che i suoi utenti hanno scritto siamo i suoi utenti non sappiamo nemmeno se in realtà questi utenti seguono barilla australia o meno non è importante l'importante è capire come lavora l'azienda quindi barilla australia si è presa tra virgolette il disturbo il tempo di andare a rituitare quello che gli utenti di twitter dicono cosa che è risultato in un retweet di foto bellissime per esempio e fa capire diciamo un po' anche la cultura aziendale che non è semplicemente vendere pasta ma è vendere un concetto di cultura italiana e quindi ecco sfruttate questi esempi anche andate un po' a spulciare come le altre aziende usano twitter andate a prendere ispirazione questo è il twitter di radio italia che durante le vacanze estive aveva anche cambiato la loro cover per andare a fare per andare a essere a tempo quindi coordinati con il periodo dell'anno quindi sicuramente un esempio di come ci si può anche adattare al periodo dell'anno proprio la settimana scorsa abbiamo fatto il webinar su come usare i social per san valentino quindi cambiare la nostra cover andare ad adattarci un po' a quello che sta succedendo appunto durante l'anno nel periodo e vedete una cosa interessante radio italia twitta tantissime foto e video e pare che funzioni perché gli hanno dato questo modo di twittare il contenuto che twittano gli ha fatto raggiungere 199.000 follower quando vedete k è perché c'è un mila quindi sta per tre zeri quindi 199.000 follower che seguono radio italia questo per farvi capire che prima di tutto esistono persone su twitter secondo che è possibile avere tanti follower se si dicono cose interessanti se si condivide contenuto di valore e se effettivamente si riesce a creare un engagement quindi un'interazione con le persone vedete per esempio lo stile del tweet ideale direi esiste un hashtag che come vedete è un hashtag molto particolare ed ero contentissima una canzone di Tiziano Ferro mette insieme tre parole fra l'altro vedete fatto in modo molto intelligente perché la prima lettera della parola viene capitalizzata viene resa maiuscola così che è più facile anche leggerla quindi abbiamo ed ero contentissimo come hashtag il link eventualmente della foto o del video Radio Italia usa ovviamente Uzzu e vedete dal loro link fra l'altro abbiamo appunto un bellissimo caso di studio un case study proprio su Radio Italia su come è riuscita a raggiungere tutti questi follower grazie a Uzzu quindi è pubblico se volete cercarlo anzi forse lo pubblicherò dopo il webinar sul mio profilo Twitter perché è veramente interessante e poi menzionano anche appunto le persone ora ovviamente se volete scrivere a Tiziano Ferro lo potete fare come abbiamo visto prima quindi assolutamente significa che con questo singolo tweet loro hanno inserito un hashtag che diventa cliccabile hanno inserito un link che porta a un sito specifico e hanno menzionato due persone quindi c'è un livello di interazione molto alto e vedete cosa succede 24 retweet 50 like direi non male per un singolo tweet Grader Grader è uno strumento che vi aiuta a gestire Twitter quindi se non sapete che cosa fare su Twitter se siete un po' persi quindi volete un feedback su come state lavorando su Twitter Grader.uzzi.com è uno strumento gratuito lanciato da noi che vi permette di capire un po' meglio che vi permette di capire un po' meglio il vostro lavoro su Twitter quindi se state facendo bene se state facendo male di fatto anche se è sbagliato dire diciamo definire in modo così semplicistico fare bene o male però diciamo ci sono delle best practice delle cose che sicuramente sono più consigliabili per esempio il fatto di condividere foto condividere video è una best practice ovvero è un'azione che è fortemente consigliata perché è stato provato che aumenta l'engagement ovvero l'interazione oppure per esempio la completezza del profilo è un'altra best practice ovvero non lasciate quell'ovetto che viene dato di default quando si crea un profilo cambiatelo subito mettete una foto interessante mettete il logo della vostra azienda la vostra foto personale ma ecco sicuramente best practice ovvero pratica azione consigliata cambiate subito il profilo rendetelo umano personale ecco per ultimo vi volevo ricordare che esiste un'applicazione Utsui per cellulare e tablet che vi permette di gestire twitter ma anche tutti gli altri social anche da cellulare anche quando siete fuori in movimento e infine vi volevo invitare ai prossimi webinar quindi tutto quello che oggi abbiamo menzionato che non risulta particolarmente chiaro viene spiegato in webinar specifici quindi vedete che abbiamo webinar sulla collaborazione su come creare la propria strategia su facebook e google plus perché ovviamente ogni social ha le sue caratteristiche specifiche quindi oggi abbiamo parlato di twitter ma assolutamente ce ne sono tanti altri che meritano la nostra attenzione e tanti tanti altri che sicuramente vi aiuteranno un po' alla volta a migliorare la vostra presenza sui social ultimo promemoria se volete provare tutto quello che abbiamo visto oggi con Utsuite Pro Utsuite Pro vi viene data in prova gratuita per 30 giorni durante i quali potete provare tutte le funzionalità di Utsuite Pro e avete anche eccesso a una formazione personalizzata con un social media coach che in particolare se siete italiani sarò io quindi avete questa possibilità di avere 30 giorni di prova gratuita di Utsuite Pro più una consulenza personalizzata rispondo rapidamente a un paio di domande perché siamo veramente agli sgoccioli con il tempo ringrazio Gian Piero Staffa che prima mentre parlavamo dei politici mi aveva scritto se Matteo Renzi spende così tanto tempo su Twitter ci sarà una ragione ogni azienda dovrebbe essere molto attiva su Twitter assolutamente d'accordo c'è un modo per vedere su Utsuite chi interagisce con noi le risposte ai nostri tweet per esempio mi chiede Mayla Nuccili se torniamo sulla nostra dashboard dunque possiamo vedere immediatamente le interazioni per esempio abbiamo visto che possiamo vedere le menzioni quindi le menzioni sono assolutamente la cosa principale possiamo vedere anche i miei tweet retweet ovvero i miei tweet retweetati per esempio posso vedere che il tweet che ho inviato alle 10.35 di questa mattina ha avuto due retweet e se ci clicco sopra posso vedere anche chi mi ha retweetato quindi in questo caso possiamo vedere anche queste cose ecco infatti l'indecisionista che abbiamo menzionato prima si chiama Eugenia quindi grazie per aver specificato pare che eccoci qua Sabina Petrazzuolo mi chiedeva che cos'è la UZIT University e come funziona la UZIT University è una sorta di webinar molto lungo di fatto è una piattaforma di formazione dove ci sono tanti video in sequenza quindi pochi minuti l'uno così che sono molto più digeribili rispetto a un webinar come oggi di un'ora in cui dovete stare per un'ora ascoltare me che parlo ma ecco sono webinar diciamo video molto più corti di 5 minuti potete passare da uno all'altro in base ai vostri interessi purtroppo l'università di UZIT è ancora in inglese ma ci sono le trascrizioni quindi eventualmente avendo il testo dovrebbe essere un po' più facili mi pare che su twitter non ci siano più grosse domande eccoci qua invece non è vero mi chiedevano studio Mosn come si chiama l'app di UZIT per android dovrebbe chiamarsi UZIT non ha un nome specifico dovrebbe chiamarsi UZIT però mi prendi alla sprovvista non so se in realtà ha un nome diverso se vai nell'app store dovresti trovare prova a fare una ricerca per UZIT se vedi il gufetto nero con la nostra con la nostra immagine la nostra icona è quella ecco quindi quindi questo qui non so se ci sono delle altre domande mi pareva di aver visto che su twitter non ce ne sono più fatemi andare un attimo indietro a vedere come vedete parlo faccio quello che raccomando come si dice seguo i miei stessi consigli quindi uso molto UZIT anche durante i webinar proprio per vedere le interazioni non mi pare che ci siano altre domande quindi andiamo a chiudere questo webinar come sempre però se vi vengono domande in mente più tardi dopo questo pomeriggio dopo la fine del webinar non vi preoccupate sono sempre qui su twitter su UZIT vi risponderò il prima possibile se volete seguirmi su twitter tra pochi minuti dopo la fine del webinar condividerò il nostro case study discorra di italia che vi da un'idea di come poter usare di come poter aumentare i vostri follower su twitter su facebook grazie a UZIT e vi ricordo che questo webinar verrà messo sul nostro canale youtube quindi se volete se avete perso se avete qualcuno che ve lo chiede potete rinviarli al nostro canale youtube che si chiama UZIT Italia quindi lo cercate su youtube dovreste trovarlo subito vi ringrazio tantissimo per questa bellissima ora passata passati insieme è veramente sempre molto interessante sapere un po' sapere un po' che cosa pensa la nostra audience dei social media di che cosa ha bisogno quali sono i dubbi le domande principali è sempre un grande piacere cercare di aiutarvi a migliorare la vostra attività il vostro lavoro sui social media grazie tantissimo veramente per essere stati qui con me vi aspetto al prossimo webinar che sarà sempre giovedì alla stessa ora e per oggi ovviamente vi auguro una fantastica fantastica giornata ciao a tutti